Buonasera, buonasera da Onda Tg, tre parti senza dolore. In una settimana al punto nascere dell'ospedale di Sulmona, una tecnica che ormai è diventata di routine, richieste per partorire nel capologo Peligno arrivano dall'Aquila e da Pescara. Noi facciamo il punto nel servizio. In poco più di una settimana sono già tre i parti in analgesia registrati al punto nascere dell'ospedale di Sulmona. La nuova tecnica che permette alla donna di vivere a pieno tutti i momenti dell'esperienza del parto è diventata di routine e sta richiamandone la patria di Ovidio non pochi utenti dalla provincia dell'Aquila e dalla costa abruzzese. E' di qualche giorno fa la notizia che una ragazza aquilana ha deciso di partorire a Sulmona dopo aver sentito parlare del parto in analgesia. Un'altra richiesta è arrivata proprio in queste ore da Pescara. Una situazione che segna una chiara inversione di tendenza per un reparto che negli ultimi anni ha sofferto proprio di fuga e emigrazione. E' stato il piccolo Leonardo lo scorso 4 maggio ad aprire un ciclo, quello del parto in analgesia, che potrebbe rappresentare un cambio di rotta per il punto nascita Peligno. Da gennaio ad oggi i parti sono più di 50, ma nei prossimi mesi il numero potrebbe salire a giudicare dagli ultimi risultati. Il personale del reparto continua ad abbattere i tempi di attesa. In questi giorni i medici stanno anticipando le visite programmate per gennaio 2017. La volontà di nascere a Sulmona c'è, ora tocca la politica. E ora la politica Forza Italia fa quadrato intorno a Elisabetta Bianchi inaugurato il comitato elettorale di piazza Capograssi con un bagno di folla. Vediamo tutto nel servizio. Mi sento prontissima, infatti la mia manifestazione come cittadino è datata direi. Ho sempre avuto a cuore le questioni che attanagliano la città e la mia campagna elettorale, posso dirlo, è iniziata tantissimi anni fa. Un battessimo pieno di applausi per Elisabetta Bianchi, candidato sindaco di Forza Italia, che ha inaugurato oggi il comitato elettorale di piazza Capograssi e si è presentata alla città. Non consentirò a nessuno di distruggere Sulmona con alleanze ibride Forza Italia, in queste elezioni amministrative ci ha messo il simbolo e la faccia delle persone oneste. Queste le prime parole pronunciate dalla Bianchi davanti alla senatrice Paola Pelino, i coordinatori regionale e provinciale del partito Nazario Pagano e Antonella Di Nino, il consigliere regionale Emilio Iampieri, l'ex capogruppo consigliare di Forza Italia Luigi La Civita, i candidati alla carica di consigliere e tantissima gente. Se la campagna elettorale sta ancora ad entrare nel vivo per i toni di basso livello che la stanno caratterizzando, la Bianchi parla di programmi di priorità, centrale SNAM, poli d'attrazione, ospedale punto nascita, tribunale, scuole, riconversione industriale, ricostruzione post-sisma, riqualificazione terreni e manutenzione ordinaria e straordinaria della città. Ho sempre lavorato per questa città dal 2009 con i problemi che l'hanno afflitta per il sisma e per la riparazione degli edifici danneggiati dal terremoto, per lo sgravio delle tasse di smaltimento di rifiuti solidi urbani richieste ai terremotati e anche per, ovviamente tutti lo sanno, per la battaglia sostenuta in favore del mantenimento dell'ufficio giudiziario di Sulmona. Voglio anche ricordare lo sforzo adoperato per il mantenimento del punto nascita di Sulmona. Vediamo un po' la squadra con la quale lei scenderebbe in campo, la lista di Forza Italia, di quali persone si è circondata? Sì, io ho fatto ricorso alle persone che provengono dalla società civile, sono persone che spendono la propria attività nella loro vita professionale, artigianale e commerciale. sono persone di buona volontà che hanno visto con grande entusiasmo la discesa in campo di Forza Italia. Nel panorama delle candidature a sindaco in città, intervenuta la senatrice Pelino, abbiamo assistito a opportunismi personali da cui si lasciano fuori i cittadini. Rinnegare la propria appartenenza politica, il proprio partito, solo perché possa far comodo e non per la città, ma per privilegi personali, io direi che è l'aspetto più brutto che c'è in questa campagna elettorale. Forza Italia ha sottolineato il coordinatore regionale Pagano. A Sulmona bisogna dire che siamo l'unica formazione politica che si presenta col proprio simbolo, dimostrando che non solo non ha evidentemente scheletri nell'armadio, è anzi orgogliosa di presentarsi col proprio simbolo. Non si può dire altrettanto per gli altri movimenti politici, a cominciare dal PD. Antonella Di Nino ha sottolineato come Sulmona non ha più bisogno di inciuci e inciucetti. Luigi La Civita ha detto stop alla politica degli anni Ottanta. Quel buongiorno al profumo di caffè. Il candidato sindaco di noi per Sulmona, Anna Maria Casini, dà il buongiorno ai candidati consiglieri e agli elettori proprio nei locali della città per parlare dei problemi quotidiani. Sentiamo nel servizio. Metti un caffè di prima mattina per cominciare un'altra giornata di campagna elettorale con i cittadini e con i candidati alla carica di consigliere comunale. È l'originale iniziativa ideata dal candidato sindaco della coalizione civica noi per Sulmona, Anna Maria Casini. Ogni giorno la Casini si rega in un locale della città e con il pretesto della colazione incrocia le stanze dei sulmonesi, scambia quattro chiacchiere con la gente e annota sul suo taccuino elettorale i problemi e le criticità del capologo Peligno. Il progetto Buongiorno Sulmona, colazione con Anna Maria, è approdato stamane all'interno della galleria commerciale di via Sallustio, presenti fra gli altri l'assessore regionale Andrea Gerosolimo. Stiamo incentrando la campagna elettorale con la gente e per la gente, sottolinea Casini, a Onda Tg. L'inizio della giornata è il momento in cui si avviano le attività, si parla con le persone, si concordano i programmi della giornata, riunirci intorno a un caffè, quindi proseguendo il leitmotiv che ha caratterizzato la prima fase della campagna elettorale, quindi in maniera cordiale e allegra ci scambiamo impressioni, raccolgo idee, bisogni, conosco persone. Nello stesso tempo visito vari caffè della città, è un modo per stare vicino anche alle attività produttive di Sulmona che ci accolgono sempre con molta allegria. Nell'incontro odierno Anna Maria Casini ha incontrato il comitato dei residenti della zona PEP che ha esposto le problematiche che affliggono i quartieri. Oggi ho parlato con il comitato di quartiere qui della zona PEP che è un comitato molto ben organizzato, ha problematiche importanti perché questo è un quartiere che rischia di diventare un quartiere dormitorio. Hanno molte idee su come... Domani l'inaugurazione della sede elettorale del candidato sindaco Bruno Dimash, inaugurazione che avrà luogo alle ore 19 in piazza 20 settembre. La sede elettorale del comitato dunque sarà inaugurata, sostenuto Bruno Dimash da otto liste che compongono il raggruppamento della città che vogliamo. La cerimonia inaugurale interverranno il candidato sindaco, gli otto capolista, tutti i candidati consiglieri comunali e i simpatizzanti. E ora la cronaca incidente stamane in via Ancinale a Sulmona. Un giovane si ribalta con l'auto e finisce in ospedale. Sentiamo i particolari. Poteva andare peggio un giovane di Pacentro che stamane si è ribaltato con la sua auto una Fiat Punto nei pressi di via Ancinale a Sulmona. L'auto è finita in un terreno dopo essere uscita fuori strada per cause ancora da accertare. Il giovane procedeva in direzione Sulmona quando all'improvviso ha perso il controllo della sua autovettura. Una scena che ha richiamato l'attenzione di non pochi passanti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Per il Pacentrano si è reso necessario il trasporto all'ospedale di Sulmona. Stando alle prime informazioni le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Una zona della città, quella di via Ancinale, che diventa troppo spesso teatro di incidenti stradali. Tocca ancora una volta i residenti incalzare le istituzioni per la messa in sicurezza dell'arteria stradale. Sul posto, per i rilievi di rito, sono giunti i carabinieri della stazione di Sulmona. E ora le autostrade A24 e A25. Domenica da Bollino Nero, previsti disagi domani per chi si mette in viaggio a causa di uno sciopero. Domenica da Bollino Nero per la circolazione su A24 e A25. La concessionaria autostradale Strada dei Parchi informa che nella giornata per i domani 15 maggio potranno verificarsi disagi presso i caselli delle autostrade A24 Roma L'Aquila Teramo e A25 Torano Pescara per uno sciopero proclamato dalle rappresentanze sindacali e aziendali. Durante lo sciopero i barchi con pagamento solo manuale potranno essere chiusi per l'assenza degli addetti alla riscossione caselli. Le postazioni chiuse sono riconoscibili da semaforo rosso acceso e saranno comunque interdette dall'apposita pasta chiudi pista. Rimarranno regolarmente aperti semaforo verde invece i barchi con cassa automatica in cui si può pagare sia con contante sia con carta di credito Bancomat posta matto via card. Aperti anche i barchi gialli del Telepass. Un avvertimento importante su A24 e A25 chiusa la carta Bancomat posta matto via card ai caselli non paga nessuna commissione bancaria e non deve digitare alcun codice personale. Basterà inserire la carta nella cassa automatica che la restituirà dopo pochi secondi. La società concessionaria ricorda che saranno garantiti i servizi di assistenza e il funzionamento degli impianti automatici per il pagamento del pedaggio che è dovuto per legge. Con il microcredito sosteniamo le imprese specie quelle in difficoltà lo ha detto l'assessore regionale a lavoro Andrea Gerosolimo stamane a Onda Tg. Sentiamo. Un'ottima risposta per l'economia abruzzese per tutte quelle imprese della nostra regione che fanno difficoltà ad accedere a credito così l'assessore regionale a lavoro Andrea Gerosolimo all'indomani della presentazione alla stampa del terzo avviso del microcredito in Abruzzo. Incontrando cittadini e commercianti nei locali sulmonesi al fianco di Anna Maria Casini candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Sulmona Gerosolimo ha specificato come la regione Abruzzo finalmente inizia un percorso diverso rispetto a quello negativo di qualche anno fa. Per i prossimi quattro anni saranno impiegati 49 milioni di euro a favore di 3.500 imprese. Bella risposta per l'economia della nostra regione. Credo che sia la migliore risposta per quelle imprese che hanno una grande difficoltà di accesso al credito. Oggi si può dire che piano 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 la regione inizia un percorso diverso rispetto a quello negativo di qualche anno fa. L'assessore Gerosolimo ha colto l'occasione anche per fare il punto della situazione sul bando 30 più che conta per il momento 1.400 domande per 300 imprese. Grandissima risposta. Credo ad oggi 1.400 domande per tirocinanti e qualcosa come 300 imprese. Attendiamo però la fine del bando, il termine che credo sia il 26 e il 27 maggio. A Fonte d'Amore stamane è stata inaugurata una centrale idroelettrica. Domenico Berlingeri. Inaugurata nella località Santa Lucia a Fonte d'Amore la centrale idroelettrica della società Soave Energia. L'impianto produrrà all'anno circa 700.000 kilowattora di energia pulita e rinnovabile in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 240 famiglie. E quanto ha spiegato l'amministratore della società Armando Pasquarelli nella cerimonia di inaugurazione che ha visto la presenza dei rappresentanti dell'Agenzia regionale per le attività produttive, proprietarie dell'infrastruttura e del presidente della provincia Antonio De Crescentis. L'idea di questo progetto è partita nel 2004-2005. Quindi da lì abbiamo fatto le varie verifiche tecniche e dopo 11 lunghissimi anni siamo riusciti ad autorizzare il progetto e a portarlo a compimento e quindi a realizzarlo. Quindi oggi è il coronamento di un percorso molto sofferto, molto lungo, nonostante le lungaggi burocratiche, ma insomma siamo riusciti a portare a casa questo bel risultato. Si tratta di una dimostrazione dell'attenzione della suave energia verso le risorse del territorio ha aggiunto Pasquarelli che dopo il taglio del nastro ha dato la possibilità ai presenti di visitare la centrale che presenta una potenza di 99 kilowatt e una portata di 170 litri d'acqua al secondo ed è costituita da una condotta interrata che alimenta due bacini di accumulo artificiali. Dal rilascio della centrale idroelettrica dell'Enel a Pettorano su Gizio parte l'opera di presa con una condotta del diametro del 500 e arriva fin qua su alle vasche ubicate in località Santa Lucia a Fonte d'Amore dopo un percorso appunto di 12 chilometri e mezzo. Qui abbiamo fatto un'analisi delle caratteristiche idrauliche e abbiamo percepito che si poteva recuperare tutto il carico energetico che arrivava su questo nodo e semplicemente adesso abbiamo realizzato un impianto che ha una portata di circa 170 litri secondo con una pressione poco più di 6 bar quindi 60 metri di salto e una potenza installata di 99 kilowatt. Qui abbiamo realizzato una turbina Pelton, una Pelton a tre getti e la sua produzione è di circa 700.000 kilowattora l'anno. 700.000 kilowattora l'anno è una equivalente di circa il consumo energetico di 230-240 famiglie. Questa energia viene prodotta a zero emissione di CO2 nell'atmosfera. Questo è uno dei processi e dei cammini che dobbiamo maggiormente sviluppare per poter raggiungere sempre di più un cambiamento di quelle che sono le caratteristiche energetiche e per avere un trapasso dalle energie da fonte fossile a quelle rinnovabili. Ora il progetto Beyond the Shape pronta la prima mostra finalizzata a Ovidio 2017 Grande Folla nell'inaugurazione poco fa al MAV di Sulmona. Vediamo tutto nel servizio. Rendere omaggio a Ovidio, farlo tornare ad essere profeta in patria e portare Sulmona fuori dai confini delle normali attività culturali. Questo è il senso di Invarias Migrare Figuras, prima mostra di Metamorphosis Beyond the Shape, il progetto di arti visive varato nel febbraio scorso in vista del bimillenario ovidiano da Ares. Laboratorio d'arte MAV, Centro Regionale e Beni Culturali, Liceo Artistico Gentile Manzara, assieme agli artisti per Ovidio, al gruppo G99 dell'Aquila, all'Associazione Leio di Pescara e ad altre presenze del territorio, quali il DLF e il Premio Sulmona alla Fondazione Silone. Grande Folla all'inaugurazione al MAV di Sulmona per una kermesse che guarda lontano, al 2017 è bimillenario della morte di Ovidio. Il senso di questa mostra è innanzitutto rendere omaggio a Ovidio, farlo tornare in patria, e farlo essere profeta in patria e al contrario portare Sulmona al di fuori di quelli che sono i confini un po' angusti in realtà delle nostre attività culturali in modo tale da valorizzare non soltanto il suo principale cittadino ma tutta la cultura e questa città, questa civiltà che ha prodotto un personaggio di tale importanza. Io, felicissimo di essere stato inserito in questo parterre, ho ragionato sul fatto che la metamorfosi, la trasformazione, parte, come nell'opera di Ovidio, da una condizione di caos che diventa cosmos. Quindi il primo passaggio è la costruzione di una griglia che tende ad un ordine. È una mostra di bozzetti questa, per cui ci sarà un percorso lungo, metamorfico nuovamente, di trasformazione da quello che è il bozzetto, l'idea originaria, fino all'opera finita. La metamorfosi è anche interna al processo creativo-artistico che nasce da un'intuizione, da un'idea, da un'ispirazione, fino ad arrivare ad un'opera compiuta. Ovidio è un nome importante, diciamo che tutto l'Abruzzo è orgoglioso di aver avuto questo grandissimo personaggio. E io sono altrettanto orgoglioso di far parte di questo straordinario gruppo che tra il 2016 e il 2017 farà una serie di eventi di estrema importanza sia in Italia che all'estero. È veramente emozionante e molto speciale perché con la mostra di questa sera possiamo dire che MAV tiene a battesimo il primo evento rivolto al grande pubblico della città che avvia le celebrazioni per il bimillenario della morte di Ovidio. Ed è emozionante anche in quanto tale, anzi soprattutto per questo valore intrinseco, di essere il momento in cui tutta la città di Sulmona toccherà con mano quello che è il percorso che ci attende per i prossimi mesi, che sarà un percorso pieno di eventi, pieno di manifestazioni che sono tutte intelaiate da questo progetto Beyond the Shape promosso dall'Associazione Ares e nel quale MAV è partner, è uno dei partner principali. Presenti fra gli altri il presidente dell'Associazione Ares Antonio Pelino, il curatore della manifestazione Raffaele Gianantonio, il curatore della prima mostra Pierpaolo Bellucci e la referente del MAV Italia Gualtieri. Un'ottantina e bozzetti di artisti di tutto l'Abruzzo dedicati al capolavoro vidiano, che resteranno esposti fino al 25 maggio prossimo, passaggio intermedio e percorso artistico, che culminerà nel 2017 con un allestimento in vari palazzi della città e con due personali dedicate ad Antonio D'Achille e Silvio Formichetti, quale firrugge le installazioni di Monticelli e Pagone per tutto il territorio urbano. Il Centro Studi Vittorio Monaco promuove un incontro sulla crisi del libro e le strategie didattiche. Ghetano Trigilio. Il moltiplicarsi di strumenti elettronici, la rete, il digitale, inevitabilmente sta producendo un abbandono del libro tradizionalmente cartaceo. Il libro per centinaia di anni ha costituito il supporto materiale della conoscenza e del sapere. Tutti abbiamo studiato sulle pagine dei libri, gli stessi docenti che hanno accompagnato la nostra infanzia scolastica ed anche l'università si sono serviti del libro. Libro che ora rischia di rimanere un semplice ricordo, un cimelio da tenere in bacheca. Il progresso è inarrestabile, sciocco, opporsi ed ancorarsi a strumenti del passato. Ma come adeguarsi ai nuovi strumenti? Come conservare l'utilizzo del libro in maniera adeguata? È evidente che stiamo vivendo momenti di grandi trasformazioni e non bisogna attaccarsi agli strumenti del passato, né tantomeno demonizzarli. Dentro queste trasformazioni c'è una perdita di centralità del libro inteso come prodotto cartaceo. Si vendono molto di meno i libri di quanto non era prima, i giornali nel giro di 10-15 anni hanno dimezzato le tirature in Italia. Insomma, è una situazione che può essere interpretata in termini negativi, cioè dove la crisi è vista in una dimensione luttuosa, come un mondo che scompare. Io credo che chi si occupa di educazione e chi guarda con interesse e con partecipazione alla società deve essere anche capace di capire che assieme alla morte, perché alcune cose effettivamente stanno morendo, c'è una nascita. Il problema è di ridefinire un atteggiamento culturale e didattico tenendo conto delle aperture enormi che sono favorite appunto dalla rete e dal digitale. Della crisi del libro e strategie didattiche si è parlato durante un convegno promosso dal Centro Studi e Ricerche Vittorio Monaco ottenuto nell'aula magna del liceo scientifico Fermi. Dopo i saluti del dirigente scolastico Massimo Di Paolo e di una breve presentazione della professoressa Filomena Monaco, il professor Roberto Maragliano, docente all'Università di Roma 3, ha tenuto un'ampia relazione sull'argomento. Ha coordinato Bruno Di Bartolo, Presidente del Centro Studi e Ricerche Vittorio Monaco. È una crisi per quanto riguarda il libro scolastico o il libro in generale? Paradossalmente il libro scolastico forse è l'unico che non subisce tanto questa crisi, però non è detto che sia un fatto del tutto positivo questo che il libro scolastico non è in crisi. Personalmente io lo vorrei più in crisi perché io penso che si debba proprio reimpostare l'insegnamento, l'apprendimento e si ha bisogno di strumenti più aperti, più duttili e più elastici. Vogliamo stimolare una riflessione, una discussione, anche partendo dalle scuole, sulle modificazioni che sono avvenute nella realtà non solo italiana ma mondiale nell'uso della strumentazione per l'insegnamento. Oggi ogni computer è una biblioteca mondiale aperta a tutti e quindi c'è possibilità di apprendere molto di più, di collegarsi con il resto del mondo velocemente. Abbiamo quindi la necessità di muoverci con questi ritmi e con questi strumenti, altrimenti veramente rimaniamo indietro e non riusciamo a cogliere la realtà e le novità. La Fondazione Internazionale Il Giardino delle Rose Blu, ospite del Parco Nazionale della Maiella. Domani alle 16 presso la sede del Parco nella Abbazia di Santo Spirito al Morrone in via Badia Sulmona si darà la presentazione ufficiale per l'Abruzzo della Fondazione Internazionale Il Giardino delle Rose Blu Ollus. La Fondazione è impegnata con oltre 10.000 volontari in molti progetti di solidarietà e beneficenza in varie nazioni, con particolare attenzione all'infanzia, ai disabili con patologie rare. Ora parliamo dell'evento Le Mani che Parlano, già sperimentato con uno straordinario successo a Sulmona, l'evento promosso dalla CNA, che ora sbarca anche a Teramo. Il prossimo 19 maggio alle ore 20 e 30 presso il Teatro Comunale di Teramo la serata sarà presentata da Paolo Del Vecchio e Melania Fonte. Ai nastri di Vartenza, Bagnaturo di Pratola Peligna, i festeggiamenti in onore di San Pietro Celestino V, che cominceranno domani alle 14 con la gara ciclistica nazionale esordienti, primo e secondo anno, secondo Memorial, all'annunzio Cianfaglione. Dopodiché un ricchissimo programma, il 19 maggio alle 21 la partenza della fiaccolata dall'eremo di Celestino V a cura dell'Associazione Celestiniana, alle 22 l'arrivo della fiaccolata con la benedizione e il rinfresco in Piazzetta San Pietro Celestino, l'evento clou del programma civile e il concerto di Umberto Tozzi sabato 21 maggio alle 21.30. Umberto Tozzi in concerto presso il campo sportivo di Bagnaturo il giorno prima però il 20 maggio alle 22 direttamente da Zellig l'esibizione di Pino Campagna presso la piazzetta dinanzi alla chiesa di San Pietro Celestino. E a Sulmona torna l'esplosione dei colori dell'Oli Summer Party, la festa più colorata d'Abruzzo per la seconda volta consecutiva a proda anche nel capologo Peligno il prossimo 28 maggio al Parco Fluviale. Vediamo. 4, 2, 2, 1, GO! Dopo il grande successo della prima edizione torna per il secondo anno consecutivo l'Oli Summer Party, l'evento che ha conquistato Mezzomondo e l'anno scorso sbarcò anche a Sulmona grazie a un gruppo di giovani. La festa più colorata d'Abruzzo è pronta a regalare nuove emozioni il prossimo 28 maggio a partire dalle 18.30 al Parco Fluviale a gusto da olio. Il programma dettagliato della divertente gioco Sachermess sarà reso noto dagli organizzatori solo nei prossimi giorni. L'Oli Summer Party è un festival celebre in tutto il mondo per il lancio di polveri colorate di origine vegetale non nocive e contenute in sacchettini capaci di creare un'atmosfera fiabbesca sulle note di alcuni DJ. La manifestazione trae origine della festa di Oli in India che segna la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. L'obiettivo è quello di abbattere tutte le barriere sociali. Il momento clou della festa è proprio il lancio delle polveri colorate che avrà luogo prima dell'imbrunire. Lo scorso anno alla prima edizione dell'Oli Summer Party parteciparono circa mille persone provenienti dalla costa abruzzese e da Firenze. Bissare un successo si sa non è mai facile ma i giovani organizzatori ce la stanno mettendo tutta per ridare colore e vivacità a una città che ne ha bisogno. È stata dedicata al Giro d'Italia la conviviale del Panatron Club di Sulmona che si è svolta ieri al ristorante Meeting. Conviviale, dicevamo, dedicata al Giro d'Italia ma anche al 35esimo anniversario della fondazione del club sulmonese. La serata ha fatto registrare l'ingresso di un nuovo socio l'imprenditore Pier Giorgio Schiavo presidente della scuola di calcio della Morronese militante nel campionato di terza categoria. Schiavo ha ricevuto l'investitura ufficiale dal presidente del Panatron Francesco Scelsi. La conviviale ha fatto il punto sulla partenza da Sulmona della settima tappa del Giro d'Italia con il presidente del comitato organizzatore Mario Pelino. Ospiti i soci del Rotary Club di Sulmona e il professor Tommaso Paolini docente di economia del turismo all'Università dell'Aquila che ha affrontato il tema dello sviluppo turistico dell'Abruzzo Aquilano tra tradizione e innovazione. E ora la pagina sportiva con il calcio facciamo il punto sulle squadre Peligne che domani scenderanno in campo cominciando con il campionato di promozione perché siamo in una fase delicatissima che è quella dei play-off. I Nero Stellati ospiteranno il San Gregorio padroni di casa di Matteo Di Marzio al completo se si esclude il dubbio sul recupero del bomber Palombizio e l'assenza dei lungodeggenti. I Pratolani essendo meglio posizionati in classifica passeranno il turno anche con un pareggio. In caso di qualificazione i Nero Stellati dovranno disputare la finale con la vincente di Pontevomano Santomero. Nero Stellati e San Gregorio si sono affrontati recentemente in campionato lo scorso 24 aprile con la vittoria dei Pratolani per 2 a 1. La Pro Sulmona sarà costretta a giocare fuori casa a Casalbordino avendo chiuso domenica scorsa il campionato in quarta posizione. In caso di risultato di parità al termine dei tempi supplementari accederà al turno successivo con il passo cordone il Casalbordino. Vediamo invece che cosa succederà domani nel campionato di terza categoria sempre ovviamente in fase play-off. domani finale play-off del Girone B di seconda categoria a Popoli per il Bugnara che affronterà il Pescina. La vincente salirà in prima categoria invece per quanto riguarda la terza categoria Girone A la Morronese e la squadra delle frazioni se dovesse vincere a Barisciano potrà festeggiare la vittoria matematica del campionato con una giornata di anticipo in caso di vittoria della squadra delle frazioni non influirà il risultato del Pianola che dovendo osservare il turno di riposo dell'ultima giornata non avrà più la possibilità di agganciare la prima posizione Ricordiamo ancora che l'evento Sport in Comune che unisce 10 società sportive in programma domani al campo di rugby è rinviato a domenica prossima 22 maggio ebbene il telegiornale finisce qui la prossima edizione lunedì alle 13.30 grazie per essere stati con noi a tutti voi auguro buon fine settimana buona domenica arrivederci tempo instabile con un nuovo peggioramento attiso nella giornata di domani sulla nostra regione dove ora ci sono condizioni di cielo molto nuvoloso coperto sulla Marsica nell'Aquilano e sui rilievi che si affacciano sul versante occidentale con rovesci diffusi localmente a carattere temporalesco schiarite interesseranno le zone collinari del versante orientale del settore costiero rovesci probabili anche sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante orientale saranno possibili addensamenti consistenti anche sul versante orientale con possibili rovesci anche a carattere temporalesco nuovo deciso peggioramento nella giornata di domani specie dalla tarda mattinata e nella seconda metà della giornata in particolar modo nel Terramano e sul settore centro orientale temperature in diminuzione più sensibile sul settore occidentale venti moderati dei quadranti occidentali ma poi tenderanno ad attenuarsi e da domani a provenire dei quadranti settentrionari mare generalmente poco mosso con motondoso in aumento e quindi la prima volta